Quindi è importante che se ne abbia contezza, è importante capire cosa dice la nostra Costituzione e questo lo possiamo fare grazie ai nostri giovani ricercatori, ai nostri esperti che sono coinvolti nell'iniziativa. Iniziativa che è curata per quanto riguarda la direzione scientifica dai docenti appunto dell'Università degli Studi di Teramo e che appunto vi daranno la possibilità di affrontare il tema della crisi. Crisi da un punto di vista della crisi della pace, quindi la guerra, il tema che è stato affrontato ieri, crisi climatica, ambientale, energetica, quella che ci troviamo tutti i giorni ad ascoltare, di cui insomma seguiamo le vicende alterne. Dicevamo la direzione scientifica dei docenti dell'Università di Teramo, Pietro Gargiulo, Enzo Di Salvatore e poi Simone Gambacorta dell'Ordine dei giornalisti. Ieri dicevamo abbiamo parlato di crisi della guerra, crisi della pace ovvero della guerra. Oggi invece si affronterà un altro tema, quello dell'Europa. Nella prima parte come di consueto saremo aiutati nel percorso dai giovani studiosi e torneremo proprio sulle origini del dibattito politico e giuridico che si è sviluppato al termine della seconda guerra mondiale. E affronteremo la questione degli Stati Uniti d'Europa. Poi ci sarà uno spazio molto ampio che verrà riservato alla figura e alle idee di Piero Calamandrei e lo faremo anche attraverso una graditissima ospite. E poi ci sarà il tavolo serale e in chiusura, come ormai è accaduto anche ieri, la Lectio Magistralis che oggi sarà affidata ad uno dei più autorevoli filosofi della politica, Carlo Galli, che ci parlerà dell'identità storico-politica dell'Europa. Ricordo anche che l'evento è in diretta streaming su Radio Radicale e detto questo io direi che siamo pronti per partire con la prima parte del dibattito che naturalmente coinvolge i nostri giovani studiosi e ricercatori. Matteo Di Simone, Riccardo Cavallo, Federico Losurdo che invito a raggiungerci qui sul palco, insieme a Paolo Marchetti che modererà appunto questo dibattito. Grazie. Funzionano? Bene. Bene. Direi di iniziare subito, visto i tempi ristretti, permettetemi solamente di dire due parole di introduzione, veramente due. Il dibattito di oggi è sugli Stati Uniti d'Europa. che nella mente di alcuni, come personaggi come Altiero Spinelli per esempio, hanno iniziato a prendere forma in un'epoca molto lontana, subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Ma che hanno visto una realizzazione inizialmente prevalentemente economica e un'integrazione politica molto lenta. Gira questa girata, la conoscerete tutti questa frase, l'Europa è un gigante economico e un nano politico. Non se ne conosce la paternità come molte di queste frasi che circolano. Qualcuno dice che la paternità sia di Henry Kissinger, ma che l'abbia pronunciata e detta per la Germania e non per l'Europa. Poi si è trovato modo di farla calzare per l'Europa. Qualcuno poi ha aggiunto anche nano militare, ma questo proprio non so chi sia stato. Io faccio parte della generazione in cui venivano fatti questi concorsi quando eravamo studenti, questi disegni che per celebrare l'Unione Europea, mi ricordo che quello che andava per la maggiore era un braccio di ferro tra una bandiera americana, Stati Uniti, l'altra dell'Urse, in mezzo dell'Unione Europea con una colomba. Questo era il disegno che vinceva e andava per la maggiore, questa vocazione per la pace degli Stati Uniti e questa posizione di mediazione. Così in realtà le cose non sono andate, il processo di integrazione politica è molto lento, oggi ne parleremo con i nostri ospiti. Io mi hanno chiesto di dare la parola in quest'ordine, il primo a parlare sarà a Matteo Di Simone che è un dottorando di ricerca, credo che abbia concluso da poco la tesi di dottorato e ha lavorato su questi temi costituzionali in profilo europeo e poi darò la parola a Federico Lossurdo che insegna istituzioni di diritto pubblico a Urbino, anche lui ha scritto su temi di diritto costituzionale in prospettiva europea. E poi ultimo la parola sarà di Riccardo Cavallo che invece è un filosofo del diritto, insegna all'Università di Catania e il suo pallino scientifico è Carl Schmitt e lo metterà a frutto suppongo anche oggi. Quindi io passo subito la parola a Matteo Di Simone, grazie Matteo. Grazie professore, si parlava appunto di spesso sull'Europa ci sono frasi di cui è difficile individuare la paternità ma che sono molto efficaci nel descrivere la situazione europea. C'è una frase, questa credo sia dello storico Fernand Brodel che mi ha colpito perché dice che ogni volta che si parla di Europa tutto diventa complesso, confuso e pieno di contingenze se vogliamo. Perché in effetti se noi prendiamo, che è anche il titolo della giornata di oggi, Stati Uniti d'Europa, siamo di fronte a un'espressione che all'apparenza è semplicissima, che però disvela un concetto che non è molto afferrabile perché in fondo a cosa ci si riferisce quando si parla di Stati Uniti d'Europa? Più volte nella storia è stata evocata l'idea europea come concetto politico ma con ricette spesso totalmente differenti. In fondo potremmo dire che lo stesso concetto di Europa è inafferrabile perché la prima cosa che verrebbe in mente è che l'Europa è un continente ma da quale punto di vista? Noi possiamo dire certamente che cosa non è Europa guardando a sud e all'ovest, l'America non è Europa, l'Africa non è Europa, però se noi guardiamo verso est la situazione diventa complessa perché c'è effettivamente un confine a est dell'Europa, se sì qual è? Ci rendiamo conto che non è un confine geografico ma per tracciare questi confini bisogna ricorrere a dei criteri che geografici non sono e in fin dei conti credo che quello che si possa dire è per certo che l'Europa in fondo è un'unità morale, spirituale semmai, potremmo individuare una cultura europea, una storia europea, però effettivamente noi non sappiamo dire dove finisce questa Europa, qual è il rapporto rispetto a quei paesi transcontinentali come potremmo prendere anche la Russia, il classico esempio, è parte della cultura europea la Russia, io credo di sì, però è un paese poi molto più che arriva fino all'estremo oriente però questo per dire cosa? Che noi abbiamo per certo, sappiamo che l'Europa è un'unità spirituale in qualche modo, se aggiungiamo Stati Uniti d'Europa quindi alludiamo ad un'unità politica istituzionale di questa unità spirituale se vogliamo, però qui dobbiamo fermarci a qual è la ricetta perché è un'idea che viene evocata un sacco anche oggi a maggior ragione alla luce del conflitto russo-ugraino però nel momento in cui scendiamo in profondità come devono essere fatti questi Stati Uniti d'Europa? Qual è l'assetto politico istituzionale? Una federazione? Una confederazione? E poi soprattutto in che modo questi Stati Uniti d'Europa debbono porsi nello scacchiere globale? Qual è la posizione che l'Europa ambisce ad avere? E qui la questione diventa più complessa perché dicendo Europa Unita abbiamo detto tutto e niente si parlava, ne parlava anche la Germania nazista, si parlava della fortezza europea per dire poi i concetti sono, dipende da qual è la ricetta sotto questo punto di vista poi noi abbiamo il problema attuale dell'Unione Europea effettivamente che cos'è appunto l'Unione Europea? Si diceva prima, noi siamo di fronte ad una costruzione che certamente è di tipo economico sul piano economico noi abbiamo un sistema che è perfettamente integrato c'è un ordinamento che ormai è comune a tutti gli Stati, c'è un mercato comune nel quale circolano persone, merci, capitali, servizi tutto, però sul piano poi politico effettivamente quello che rimane è poco di fronte alle grandi scelte globali come dimostra poi la crisi russo-ucraina il conflitto russo-ucraino l'Europa è grande assente come potremmo dire che è accaduto anche con i conflitti nell'ex Jugoslavia e qui il discorso diventa evidente che al di là di questo concetto, di questa espressione che viene usata non dico in ogni ambito perché abbiamo anche forze politiche contrarie però da parte delle forze europeiste ad esempio che si dicono fautrici degli Stati Uniti d'Europa poi quando si tratta insomma di tracciare gli ingredienti di questa ricetta e le tappe poi per divenire gli Stati Uniti d'Europa siamo di fronte, non so se forse è eccessivo, però di fronte al luoto perché se noi andiamo a vedere di occasioni nella storia ce ne sono state diverse questa forse è un'altra di quelle occasioni però siamo di fronte ad un'Europa che appunto è zoppa ma soprattutto anche all'interno degli stessi Stati della stessa Europa abbiamo anche visto che non ci sono posizioni comuni anche su questo tema quindi io credo che a me sembra veramente che siamo di fronte attualmente ad un'utopia nel senso che per divenire agli Stati Uniti d'Europa avremmo bisogno di una volontà politica concreta verso questa tappa tra lasciando gli ostacoli giuridici che pure sono indifferenti poi ne parlerà Federico il punto ci sono degli ostacoli giuridici non di poco conto perché per modificare i trattati è necessario l'unanimità e sappiamo che è veramente difficile mettere d'accordo tutti i paesi che attualmente compongono l'Unione Europea ma al di là degli ostacoli giuridici appunto c'è il problema e soprattutto politico attualmente mi riesce difficile immaginare diciamo una via che in qualche modo possa condurre verso quella direzione con questo quadro come si può cioè questa è anche una domanda poi che mi pongo penso che ci poniamo tutti qual è la strada poi concretamente per raggiungere una costruzione giuridica istituzionale politica di questo tipo io credo che il momento in cui ci si sia andati più vicini è stato paradossalmente all'inizio del processo di integrazione europea nel 1952 quando appena poco dopo l'istituzione della CECA quindi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio il problema diciamo della guerra fredda dello scenario della guerra fredda del riarmo tedesco imposero diciamo ai paesi della piccola Europa l'idea di una Comunità Europea di difesa che poi questa anche su diciamo su iniziativa italiana in particolare portò a concepire una comunità politica europea che avrebbe dovuto in qualche modo poi soprassedere a tutto questo sistema di difesa collettiva e ci si era quasi arrivati perché ci si trovava di fronte ad uno statuto in cui si parlava di divisione dei poteri di sistema rappresentativo bicamerale con una Camera dei Popoli eletta su fraggio universale una Camera degli Stati eletta dei Parlamenti nazionali poi sappiamo che il progetto è naufragato a fronte dell'opposizione della Francia l'Italia non è mai riuscita ad arrivare a portare a ratifica il trattato a causa appunto del ritiro francese e poi abbiamo il processo di integrazione come si è sviluppato francamente secondo me quella diciamo siamo di fronte in un'occasione storica irripetibile probabilmente io qui mi fermo concludo qui passo la parola a Federico grazie 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 Matteo Matteo pone due questioni fondamentali sono fondanti la prima è che cos'è cos'è l'Europa cioè come la si identifica e questo è veramente un problema noi sappiamo benissimo ci sono paesi come la Turchia che stanno aspettando da tempo un ingresso nell'Unione Europea ma ci sono fortissime resistenze come la si identifica territorialmente come la si identifica culturalmente e poi il secondo grande interrogativo è facile parlare ai Stati Uniti d'Europa ma come li costruiamo cioè da un punto di vista dell'assetto costituzionale tra virgolette come li costruiamo quindi due interrogativi chiave un interrogativo è l'identità e l'oggetto l'altro è la struttura bene adesso il tempo è poco purtroppo e quindi sarò molto breve io nell'introdurre gli autori che hanno un quarto d'ora a testa per concludere ci siamo abbastanza prego Federico Losurto allora io ringrazio Enzo per l'invito e vorrei provare diciamo ad affrontare il tema partendo da uno spunto che mi è capitato di leggere a proposito di questo tema Stati Uniti d'Europa da parte di Caracciolo che ha detto ma forse il problema sono in realtà quello degli Stati Uniti in Europa cioè nel senso di capire qual è stato l'influenza che hanno avuto gli Stati Uniti nella costruzione del progetto europeo nel processo di integrazione europea e questo mi pare un tema molto rilevante perché giustamente Matteo ha messo in luce un aspetto che io ricordo brevemente perché è stato già detto giuridicamente il progetto europeo è da sempre in una dialettica ineliminabile tra la vocazione a darsi elementi di un'entità federale al punto che si è parlato di forma di Stato c'è una forma di governo che in maniera embrionale ricorda una forma di governo parlamentare un sistema ordinato di fonti una ripartizione di competenze tra diversi livelli di governo quindi c'è questa vocazione statuale è quasi una vocazione costituzionale però poi c'è quel tarlo quel limite genetico che spesso viene sottovalutato ma che in realtà è sempre presente è il fatto della origine di diritto internazionale dell'ordinamento europeo e che come ha detto Matteo qualsiasi passo in avanti qualsiasi accelerazione richiede il consenso unanime di tutti gli stati e questo non è un limite da poco perché noi abbiamo visto che negli ultimi decenni la gran parte delle crisi che stiamo affrontando sono affrontate dalle istituzioni europee non con modifiche dei trattati perché di volta in volta c'è l'opposizione di uno stato membro o dell'altro ma con modifiche estemporanee improvvisate contingenti basta ricordare la vicenda del recovery fund ovviamente uno strumento che ha dato corpo a un'idea di Europa solidale ma è uno strumento estemporaneo temporaneo proprio perché ogni volta che si si pone il problema di fare una modifica effettiva dei trattati c'è sempre il problema di un'opposizione e basta ricordare come è stata affrontata la crisi dei debiti sovrani eccetera eccetera però perché e noi abbiamo diciamo così questa vocazione di tipo statuale tra virgolette dell'Unione Europea che è stata incarnata da diverse filosofie dell'integrazione a parte la filosofia federalista che è stata citata da Matteo dobbiamo dire che prevalsa e lo sappiamo bene la filosofia funzionalista cioè l'idea che peraltro dei nostri padri fondatori che non escludeva la possibilità di pervenire a una forma di stato federale solo che la metteva tra parentesi come una finalità ultima di cui non si doveva parlare perché intanto bisognava il funzionalismo far funzionare il processo di integrazione europea con un processo graduale incrementale passo dopo passo mercato unico poi la moneta e poi si pensava ci si illudeva che con la moneta si sarebbe creata anche una unione fiscale e dunque un'unione politica e poi è stata la filosofia costituzionalistica del processo di integrazione europea che oggi sembra dimenticata ma che c'è stato un momento storico in cui si è detto non abbiamo un popolo non c'è un popolo europeo non c'è una nazione però abbiamo dei principi dei valori comuni che possono dare corpo a quella costituzione europea anche appunto se manca un vero fondamento di legittimazione ebbene però il punto è che queste filosofie queste filosofie avevano in mente comunque sia pure attraverso diverse strade avevano in mente l'idea di un'integrazione unitaria corale simmetrica andiamo tutti verso lo stesso obiettivo magari ci diamo tempi diversi e poi invece a un certo punto entra nel corpo del processo di integrazione europea un diverso principio di differenziazione asimmetrico ma direi di più col trattato di Maastricht questa è un po' una tesi alla quale sono molto affezionato viene inserito dentro il progetto europeo un principio di competizione ma non solo tra imprese ma anche tra gli stati cioè viene inserito un meccanismo come dire di concorrenzialità tra gli stati membri che finisce per produrre appunto un effetto di diciamo così sfarinamento del processo di integrazione una moneta unica una politica monetaria federale affidata interamente alla banca centrale europea costruita come un'istituzione totalmente indipendente tanto dagli esecutivi nazionali quanto dai parlamenti nazionali politiche finanziarie sottoposte a controlli sempre più stringenti dal lato della spesa con gli effetti sugli stati sociali nazionali sempre più condizionati ai valori della stabilità finanziaria ma allo stesso tempo politiche fiscali per nulla coordinate anzi in continua competizione per accappararsi diciamo così le basi imponibili delle grandi multinazionali questo sistema ha introiettato nel processo di integrazione europea una crescente divergenza fino ad arrivare allargamento dell'unione europea ad est a dieci paesi dell'europa dell'est appunto un allargamento fatto questo storicamente lo possiamo dire più per ragioni geopolitiche e questo ci porta a un collegamento con la stringente attualità i paesi che entrarono all'europa nell'unione europea di lì a poco entrarono anche nella nato e quindi c'era mettere assieme il processo di integrazione europea e la nato e quel allargamento è proprio avvenuto all'insegna del dumping sociale tra gli stati membri cioè si è inserito si sono inseriti nell'ordinamento europea alcuni stati che avevano standard economico sociali diversi dai nostri che hanno visto nel processo di integrazione europea la possibilità un po' anche di emanciparsi dalla storia passata dell'unione sovietica ma che hanno si può dire sfruttato io direi addirittura abusato delle libertà di circolazione garantite dal mercato per fare una concorrenza ribasso agli stati dell'Europa continentale e il risultato appunto è stato ancora quello di disgregazione e per arrivare poi come sappiamo al massimo della disgregazione con la Brexit sulle cui ragioni non ho ovviamente il tempo di parlare che è di fatto la prima secessione dal processo di integrazione europea perché dicevo allora certo il tema Stati Uniti d'Europa ci porta anche al tema degli Stati Uniti in Europa perché inizialmente gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo decisivo per l'impulso del processo di integrazione è inutile ricordare il piano Marshall nel 1947 con il quale gli Stati Uniti diciamo così hanno finanziato con enormi crediti gli stati dell'Europa continentale per ricostruirne le città distrutte ma hanno anche condizionato diciamo così le politiche di questi Stati indirizzandole verso un modello di economia di mercato quindi gli Stati Uniti hanno visto di buon occhio l'integrazione dei mercati nazionali anche come possibilità di ergere uno scudo all'altro modello culturale geopolitico geoeconomico dell'Unione Sovietica cioè della pianificazione sovietica e per certi per un certo tempo la costruzione del mercato comune europeo poi il mercato unico europeo è andata di pari passo anche questa è una tesi a cui sono molto affezionato con la difesa da parte degli stati nazionali dei propri sistemi di welfare robusti forti quelli che appunto chiamiamo il stato sociale dei 30 gloriosi questo equilibrio garantito anche da una cornice internazionale che teneva in qualche maniera sotto controllo gli scambi delle valute grazie agli accordi di Bretton Woods comincia poi a vacillare e diciamo così con il trattato di Mastri che dicevo prima i stati sociali nazionali sono sempre più condizionati a questi macro valori economici di stabilità finanziaria e competitività ma quando gli stati europei pensano di integrare anche le monete nazionali inizialmente gli stati uniti sono fortemente contrari perché temono che possa essere a rischio il predominio del dollaro finiscono per tollerare diciamo così la creazione dell'euro a tacito patto che comunque il predominio del dollaro non fosse insidiato nel dominio dei circuiti finanziari transnazionali ma se c'è una cosa sui quali invece gli stati uniti non si sono mai mossi è l'idea di un'integrazione degli eserciti europei degli eserciti nazionali su quello aspetto gli stati uniti hanno sempre sempre osteggiato la possibilità appunto di creare un esercito europeo che poi se ci pensate bene il tema di uno stato federale europeo se non parte anche dall'idea di una difesa comune di una politica estera comune si riduce a un discorso astratto ad aria fritta abbiamo un mercato comune abbiamo una moneta ma poi come dimostra la vicenda e così giungo alla fine non so quanto se ho già esaurito altri cinque minuti altri cinque minuti e giungo così un po' alla questione di più stringente attualità gli Stati Uniti appunto già in realtà con la CED la Comunità Europea di Difesa del 1952 si opposero ed era il tentativo di creare un esercito multinazionale europeo dicevo una federazione europea se non c'è una politica estera di difesa diciamo così resta appunto un mercato una moneta con stati sociali appunto poi sempre più condizionati alle valori del mercato e questo elemento lo vediamo anche oggi appunto cioè di fronte al conflitto russo-ucraino sul quale vi siete intrattenuti ieri e quindi sul quale non dico niente non aggiungo niente ma diciamo qual è la posizione assunta dall'Unione Europea è una posizione che si pone come capace di mediare tra contrapposti interessi è una posizione che è in grado di elaborare prima di tutto e poi di dare forma attuare un proprio interesse geopolitico geoeconomico autonomo da quello degli Stati Uniti oppure come a me pare l'Unione Europea sta più o meno consapevolmente perseguendo un interesse che non è necessariamente il proprio ma è soprattutto d'oltreoceano peraltro subendo sul proprio territorio le conseguenze del conflitto mentre gli Stati Uniti sono ben protetti da due oceani rispetto a quelle conseguenze e giungo allora a una breve conclusione vedete il tema degli Stati Uniti d'Europa dello Stato federale europeo dunque di un'entità di tipo federale si lega al rapporto che prima è stato ricordato dell'identità europea unità e identità europea fino ad oggi l'idea era che l'unità cioè l'unità giuridica l'unificazione dei mercati l'unificazione delle monete in forma del tutto embrionale e per certi versi fallimentare l'unificazione dei sistemi sociali persino l'unificazione dei sistemi di diritti fondamentali con la carta dei diritti trattato costituzionale cioè che l'unificazione giuridica e questa è poi la chiave del funzionalismo avrebbe prodotto una identità europea cioè un idem sentire dei popoli europei questo no si è per niente non si è realizzato e allora forse sarebbe il caso di capovolgere questo rapporto e di partire ma questo probabilmente non lo so se siamo ancora in tempo per così dire di partire dall'elemento identitario qual è insomma quel fattore che fa sì che ci sentiamo insieme popoli europei e che non deve essere necessariamente una lingua ma un qualche mito politico identificativo del nostro stare assieme che possa poi essere il cemento di una unificazione giuridica europea vi ringrazio grazie a te Federico e Federico chiaramente Federico lo surdo mette in luce come solo una percezione estremamente ingenua possa considerare questo processo politico di unificazione europea come un processo autopoietico cioè un processo posto dall'Europa e sviluppato dall'Europa è un processo che subisce necessariamente influenze esterne scenari geopolitici complessi che autorizzano o non autorizzano determinati scenari o configurazioni e è una visione direi molto realista e ci mette un po' con i piedi per terra bene adesso passo la parola a Riccardo Cavallo prego Riccardo grazie Paolo grazie agli organizzatori in particolare ad Enzo di Salvatore il mio intervento l'ho concepito così si colloca sul crinale tra il tema della guerra che ieri è stato sviscerato nelle sue molteplici sfaccettature e il destino dell'Europa nell'attuale mondo globale alla luce anche delle considerazioni che sono state sviluppate sia da Matteo di Simone che da Federico lo surdo e un po' il tema che sarà oggetto delle riflessioni di oggi ecco chi ci seguirà e cercando allo stesso tempo oppure di interloquire criticamente con i relatori che già sono intervenuti ieri e d'altro canto anticipare alcune considerazioni propedeutiche al dibattito di stasera sono decorsi ormai all'incirca 30 anni dalla profezia di Francis Fukuyama che teorizzava la fine della storia e il trionfo dell'ideologia liberale quasi come una sorta di inevitabile destino non solo per l'Europa ma per l'intero occidente per l'intero pianeta a smentire però per l'ennesima volta il politologo nippo americano il quale pensava che dopo la caduta del muro di Berlino e dopo il tramonto dell'Urs tale ideologia non solo avrebbe portato progresso e benessere ovunque ma avrebbe spunto una volta per tutte dal nostro orizzonte esistenziale la guerra il conflitto però ancora una volta l'ho ricordato ieri molto opportunamente Paolo Ercolani assistiamo a questo irrompere della storia il cui incedere diversamente da quanto scritto da Robert Musil non somiglia a quello di una nuvola e a quello di chi va bighe lonellando per le strade e qui è sviato da un'ombra lato un gruppo di persone o da uno strano taglio di facciate e giunge infine in un luogo che non conosceva e dove non desiderava andare bensì al movimento di una palla di biliardo che una volta partita segue una certa traiettoria ed in effetti e ritorno ancora una volta al conflitto russo ucraino la storia non inizia contrariamente a quando afferma il pensiero mainstream il 24 febbraio del 22 con l'invasione russa ma molto prima già nell'Ucraina sud orientale e in particolare nel Donbass forse è più fino ad alcuni mesi fa un territorio del tutto sconosciuto ignoto dove da circa otto anni nel silenzio e nell'indifferenza generale si combatte una guerra civile che ha lasciato finora dietro di sé migliaia di morti e di feriti al di là delle responsabilità mai accertate e delle censure della stamba occidentale su questi cruenti episodi o di possibili interferenze politiche degli Stati Uniti nel Donbass occorre rimarcare in parte l'ho spiegato già Federico come quest'ultimi gli Stati Uniti dalla fine della guerra fredda e malgrado la dissoluzione del patto di Varsal hanno ignorato l'ammonimento per esempio lanciato nell'ormai lontano 97 dal diplomatico e storico americano George Kennan che dalle colonne del New York Times avvertiva non solo che l'allargamento ad est dell'alleanza atlantica potesse essere un errore fatale della politica estera americana poiché una siffatta decisione avrebbe da un lato come sta accadendo esasperato le tendenze nazionaliste antioccidentali e militariste nell'opinione pubblica russa con effetti negativi sullo sviluppo della democrazia in russa e dall'altro ripristinato l'atmosfera della guerra fredda nelle relazioni est-ovest spingendo la politica estera-russa in direzione a noi decisamente gradite anche per questi motivi il conflitto odierno che da ormai ben sei mesi sta imperversando guardate bene nel cuore dell'Europa rischia di non rimanere confinato nei soli confini ucraini ma addirittura come fuoco che cova sotto la cenere potrebbe propagare i suoi effetti e anche questo lo stiamo vedendo su scala globale ridisegnando di conseguenza sulla base dei rapporti di forza quell'intricato sistema di pesi e contrappesi politici e istituzionali su cui si regge l'Europa e da cui derivano anche i legami con gli Stati Uniti da una parte e il resto del mondo dall'altra a dispetto però delle dichiarazioni dei leader europei che a più riprese hanno sostenuto l'inesistenza di fratture o spaccature a volte insanabili tra i paesi dell'Unione quest'ultimi in realtà con non pochi e difficili equilibrismi hanno proceduto e lo stiamo vedendo anche negli ultimi giorni in ordine sparso piuttosto come ricordava Federico secondo un idem sentire politico ricorrendo tra l'altro all'arma spuntata delle sanzioni economiche che vanno dal blocco dell'accesso SWIFT verso alcune banche russe e bielorusse al divieto di importazioni di carbone e petrolio dalla russa fino al varo di misure restrittive riguardanti addirittura lo stesso Putin i membri della Duma e gli oligarchi russi che rischiano di essere non affatto efficaci finendo prima o poi per produrre una sorta di effetto boomerang con innumerevoli danni sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo ambientato ne ha parlato ieri molto opportunamente anche Gianluca di Egidio in ogni caso l'Europa non è stata in grado di discostarsi dai diktat statunitensi che stanno rendendo incandescente il clima politico europeo attraverso il continuo invio in Ucraina di armi sempre più sofisticate queste discutibili scelte condivise anche dall'Italia in palese violazione e questo lo abbiamo visto anche ieri dell'articolo 11 della carta costituzionale e che addirittura ha spinto taluni studiosi ad avanzare l'ipotesi di una guerra per procura queste scelte potrebbero avere l'effetto di produrre un escalation del conflitto e inasprire ancora di più i rapporti diplomatici già di per sé incrinatisi negli ultimi anni a causa della continua espansione ad est dell'alleanza atlantica essa già da tempo ha dismesso i panni di un'alleanza di difesa ed è diventata a tutti gli effetti una sorta di forza di intervento sotto legida degli Stati Uniti che spesso questo lo dobbiamo ricordare a noi giuristi agiscono in spregio alle norme del diritto internazionale oggi invocate a gran voce e mai rispettate dagli americani come già accaduto nel conflitto nell'ex Jugoslave durante i bombardamenti in Serbia e in particolare nella città di Sarajevo la cui biblioteca è stata avvolta nelle fiamme in una notte d'estate del lontano 92 a sclerotizzare ulteriormente la già difficile situazione sovviene l'uso strumentale anche di questo si è parlato ieri l'uso strumentale dell'informazione da parte dei mass media occidentali così come di quelli filorussi di cui sono rimasti vittima gli intellettuali e gli stessi giuristi che si dimostrano in buona parte dei casi del tutto accondiscendenti e remissivi ad un sistema di comunicazione come le anime belle di hegeliana memoria evitando non solo qualsiasi forma di pensiero critico ma ricorrendo oltresì ad un usurato lessico fatto di buone intenzioni e scegliendo la più agevole via della conservazione dei rapporti di forza ciò risulta del resto funzionale a quella che è stata definita l'illusione giuridicista che oltre ad essere stato il tratto caratterizzante dell'alexio di Ferraioli o dell'intervento di Azzariti come se il diritto fosse riducibile ad una sorta di formula magica capace di risolvere quasi per incanto tutti i problemi e pervade anche questa proposta quest'illusione giuridicista avanzata mesi fa da più parti di istituire una sorta di tribunale speciale non tanto sull'esempio più volte ipotizzato del tribunale di Norimberga ma sulla falsariga del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia il cui scopo ieri è stato quello di giudicare e perseguire gravi violazioni del diritto internazionale crimini di guerra crimini contro l'umanità e genocidio perpretati da singoli individui ufficiali serbo bosniaci nello specifico mentre oggi quello di sottoporre a giudizio per crimini analoghi lo stesso Putin dimenticando l'amare a lezione della storia che in questi casi a prevalere non è la giustizia to kur ma è la giustizia dei vincitori tali aspetti ecco permettetemi un ricordo personale erano stati lucidamente preconizzati da un grande giurista e filosofo oggi ingiustamente dimenticato il mio maestro Pietro Barcellona che all'incirca venti anni fa scriveva quando il potere è saldamente in mano alle potenti lobby degli affari e della finanza dei circoli mediatici e della manipolazione delle informazioni i giuristi si abbandonano al cosmopolitismo umanitario e si arruolano nel grande esercito delle buone intenzioni e delle buone maniere magari fornendo un'inconsapevole legittimazione ideologica al mantenimento dello stato di cose esistenti un'Europa inconsistente un'America lanciata all'assalto di ogni possibile avversario politico una guerra infinita che nessuno osa criticare perché ormai chi esce dal coro è bollato come anti-americano anti-occidentale e anti-liberale oggi più che mai tali parole acquistano una loro pregnanza se si pensa che prima la crisi finanziaria poi la pandemia e da ultimo i venti di guerra che continuano a soffiare impetuosamente nel cuore dell'Europa hanno dimostrato che essa non riesce a tagliare il cordone ombelicale con gli states e mi avvio alla conclusione allora mi viene in mente il racconto mitologico la mitologia greca penso a Zeus e a una di quelle sue seduttive trasformazioni Zeus assume le sembianze di un toro bianco rapisce la principessa Europa come immortalato con un drammatismo senza precedenti da Tisiano nel suo ratto di Europa e nella scena clou del rapimento la giovane fanciulla nella sua opulenta bellezza urla disperata mentre si trova contro la sua volontà sul dorso dell'animale si dimena mentre dei putti altrettanto allarmati sembrano volerla salvare da un destino che è tuttavia ineluttabile il toro prima mansueto ha lasciato le sponde sicure della patria di Europa sta attraversando il Mediterraneo per approdare a Creta ma fuori di metafora non è arduo intravedere nei panni del toro Zeus l'impero statunitense che dopo aver sedotto Europa per l'ennesima volta cerca di trascinarla non più verso le tranquille sponde del Mediterraneo ma verso gli ostili lidi dell'oceano atlantico coinvolgendo la sua malgrado in un conflitto le cui conseguenze oltre ad essere del tutto imprevedibili potrebbero ritroscersi contro l'Europa stessa condannandola tra l'altro alla marginalità nell'attuale contesto geopolitico allora se l'Europa vuole davvero rendersi autonoma indipendente e se vuole assurgere al ruolo di protagonista nella scena globale dovrebbe questo è un mio parere un mio punto di vista liberarsi una volta per tutte dal fardello atlantico tenendo bene a mente che l'europeismo storicamente parlando è cosa ben diversa dall'atlandismo non essendo quest'ultimo affatto come è stato scritto di recente e come viene ostendato dai seguaci del pensiero unico dominante garanzia di pace per i paesi occidentali e di stabilità democratica è stato tutt'altro e soprattutto liberarsi anche di questa funzione di sudditanza economica culturale psicologica nei confronti degli Stati Uniti cercando per un verso di affermarsi l'Europa come grande spazio politico come grande potenza politica o per parafrasare il titolo di un libro ormai pionieristico di Antonio Candaro deve ritornare ad essere sovrana in un mondo proteso sempre di più verso il multipolarismo e soprattutto cercare di instaurare un fecondo e costante dialogo con le principali potenze in primis con la stessa Russia anche per scongiurare il pericolo incombente di nuove guerre che possano in un modo o nell'altro l'ambiro interessare il territorio europeo vorrei pertanto chiudere con le parole di un autore maledetto a me molto caro lo ricordava il professor Paolo Marchetti come Carlo Schmitt il quale malgrado la sua esecrabile adessione al nazionalsocialismo è riuscito a ricostruire in maniera lungimirante la storia dello ius publicum europeum mettendo in luce i meccanismi e le aporie della forma politica della modernità dall'altra parte proprio le contraddizioni le aporie e la manganza di sistematicità dell'opera schmittiana probabilmente possono essere comprese spiegate come il più come il sindomo di una più grave crisi europea dello spirito il giurista tedesco mi riferisco ancora una volta a Schmitt oltre 50 anni fa e concludo veramente riprendeva non a caso nel suo scritto teoria del partigiano alcuni versi tratti da una poesia di Mao che sintetizzano forse meglio di ogni altra cosa il nuovo nomos della terra se il cielo mi fosse patria sguainerei la mia spada e ti taglierei in tre pezzi uno il regalo all'Europa uno all'America ma uno lo terrei per la Cina e sarebbe la pace a dominare il mondo vi ringrazio grazie a te Riccardo Riccardo Cavallo un'altra immersione diciamo nel realismo la difficoltà che il momento attuale con il conflitto in Ucraina in corso le difficoltà che sono messe in luce da questo conflitto e integrazione europea e le forti influenze ne ha parlato anche Riccardo Cavallo che provengono dagli Stati Uniti o da potenze strane all'Europa bene io direi che siamo nei tempi esatti non mi rimane che ringraziare l'amministrazione comunale di Nereto professore di Salvatore e l'Università di Teramo per l'organizzazione di queste bellissime giornate e se non sbaglio ci rivediamo qui tra ci vediamo qui tra un po' intorno alle leggo 20 e 30 per sicurezza per evitare magari errori una piccola pausa prima di partire con la seconda parte di questa seconda serata una comunicazione di servizio ed un saluto un saluto al professore Andrea Ciccarelli che ci ha raggiunto poco fa che è il delegato del rettore della terza missione che ha sostenuto l'iniziativa ed una comunicazione di servizio invece purtroppo e questo era il sogno di ogni speaker c'è da spostare una macchina targata CK433BB si tratta di un Alfa Romeo dovete toglierla anche se c'è il cartellino staff del festival della Costituzione perché altrimenti ve la rimuovono ripeto un Alfa Romeo CK433BB e ho realizzato il mio sogno grazie grazie